Allora, l'audio si sente benissimo, questa è la posa alla Cruciani, adesso ci manca solamente qualche OnlyFans o qualche scappato di casa che viene intervistato e preso in giro Papere papere, questo è quello che direbbe Gerry Scotti dopo tipo l'ennesimo incidente mortale visto su striscianotizia seguito da ahahahah delle papere E il Gabibolo secondo te è comunista Io sono Marco e io sono Davide e insieme siamo Io sono Marco E io sono Davide E insieme siamo due cazzoni che devono ancora prendersi la laurea E che ci crediato no, non sappiamo ancora cosa vogliamo fare del nostro futuro D'altronde come molti ragazzi che vivono in quest'epoca beffarde vigliacca Come noi, Galimberti dice i giovani non hanno futuro Ehi, forse ha ragione Eh, forse ha ragione Non lo so, lo scopriremo, lo scopriremo La verità assoluta è che siamo indecisi Siamo degli indecisi cronici Come potete leggere anche sul banner di YouTube Siamo indecisi ed è per questo che è nata questa idea Vi racconto anche una piccola storia Io e lui ci siamo conosciuti a lezione Come molti universitari, molti di voi E durante appunto una lezione molto dimenticabile Di cui non faremo il nome assolutamente Professoressa, quindi già identifica il sesso Grandissima, veramente fortissima La più potente assolutamente nell'università di Torino Così almeno ristringiamo ancora più il campo Io e lui ci guardiamo, ci chiediamo Ma come possiamo aiutare le persone come noi A risolvere questo problema? Cioè, se ascoltassimo delle storie di persone che ce l'hanno fatta O persone che hanno trovato la propria strada O che hanno le idee chiare Oppure anche fallimenti di alcuni studenti Sbagli, errori E li portassimo in una trasmissione Lì abbiamo avuto la nostra eureka Abbiamo iniziato invitando compagni di corso Amici, zii, cugini Parenti dei compagni di corso Finché gli studenti non ci hanno dato la loro fiducia E hanno chiesto di venire a raccontare la propria esperienza All'interno di questa trasmissione Che ricordiamo essere aperta a tutti Ora, la prima stagione la trovate completa su Spotify Con tutti i format che abbiamo creato Vita da fuori, sede, unito contro Polito La seconda stagione invece approda qui su YouTube In realtà ti sei dimenticato la cosa più importante Ovvero la nostra pagina Instagram Icicles.podcast Perché? Perché su quella pagina Voi potrete chiederci di venire ospiti al podcast In più, quotidianamente Metteremo sondaggi, box domande Che andranno a influenzare Tutte le varie trasmissioni E gli episodi che noi pubblicheremo Quindi i vostri commenti potranno essere letti In trasmissione Oppure semplicemente andranno a delineare Un format O anche solo un episodio chiave Che voi volete che noi svisceriamo Insomma, iscrivetevi alla pagina Instagram Un'altra grande novità Che abbiamo introdotto in questa seconda stagione È il nostro TikTok Che in realtà avevamo già C'era già Però ci è stato annichilito dall'algoritmo di TikTok Siamo stati bannati ingiustamente Ingiustamente bannati Su TikTok troverete tutto quello che non vedete su YouTube E su Instagram Ovvero backstage Bloopers E tutto quanto quello che va scartato E ovviamente chiederemo a Tubo di montare tutto quanto Tubo è il nostro montatore Per chi non fosse affine alla lore di questo podcast Ovviamente è sottopagato Tubo, stai guardando questo video e lo stai montando Non pagato Non verrai pagato Quest'episodio, hai capito? Sbrigati Monta Due minuti questo video Due Ragazzi siamo veramente euforici Ma quando inizia la seconda stagione dei cicless Io vi posso solamente dire bentornati O benvenuti Se non ci avete ancora scoperto O ascoltato Sì arriviamo E ricordatevi di seguirci sia su TikTok Che su Spotify Che su Instagram Che su YouTube Mi raccomando importantissimo anche Instagram I cicless.podcast Dove riceverete appunto tutte le novità Arriviamo Aspetta Abbiamo un ospite che sta scalpitando per entrare E fare il primo episodio Tira fuori Via i tuoi Sì Mons per favore Grazie Merda Mons e Flo Cazzo Ci siamo ricordati ora Vogliamo ringraziare tantissimo Grazie Grazie l'absus mental Vogliamo ringraziare tantissimo I nostri grafici I nostri grafici Mons e Flo Che hanno due nomi molto esotici Yes sir Tagheremo i loro profili Perché fanno tante belle cose Grafiche Sono due appunto designer E ci hanno fatto il nuovo logo E ci hanno fatto il nuovo logo E le nuove grafiche Quindi grazie a voi Perché lo faccio per voi Lo facciamo per voi Vi rendete Basta Arriviamo Alle tre apre Alle tre Madonna Vabbè vado a prenderlo Capito Ciao ragazzi Ci vediamo nel primo episodio Ciao 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 a tutti Grazie a tutti